Ciao a tutti raga, benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft oggi qua sono da solo ehm, vi volevo dire una cosa ehm, come si dice in una settimana non farò video perchè non ci sarò eeeh, ora andiamo in miniera allora qua c'è la quella che ho già esplorato penso di aspetta ce l'ho la crafting table ma era come in quell'altro episodio ah in quell'altro episodio il video si è stoppato e allora non l'ho potuto registrare ora devo andare a prendere la legna per la crafting table allora e come vedete ho preso la crafting table raccolta del legno ah avete visto il primo episodio i primi casini oggi faremo i secondi casini prendi qua, faccio le stick faccio un piccone di pietra scava questo quanto, quanti ci sono, quanto c'è oddio è una grotta piccolina ma c'è 30.000 di ferro faccio, ora prendo, vabbè non tanto ah sì, non è né poco né tanto ora, aspetta, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto otto per una fornace prendi fornace metti questa qua c'è il coso, come si chiama il ferro cosa ci mettiamo? il piccone mettiamoci mettiamoci questo intanto un lingotto con un lingotto ah, intanto aspetta ma qua era quella grotta piccola vero? sì, era quella grotta piccola ci vedremo quando ho preso tutto il ferro sarà in un'altra mia era ciao sono ritornato con 10 di ferro, sì mi faccio di stick ecco perché sembrava strano ti zitti allora fatti gli stick non ce lo so perché basta un piccone e anche una bella spadetta e l'ermetto così possiamo ma nemmeno pantaloni faccio un elmetto e si vale vabbè l'ermetto ecco il primo cosa di mai il primo vabbè la prima armatura diciamo ora prendi prendi costa crafting table e andiamo in un'altra non ce l'ho le torce no però c'ho le stick allora fatti le torce 20 e ora andiamo in un'altra miniera a vedere se ci quasi sale secondo me qua non c'è proprio niente ci so solo modo penso proprio di sì e sale troppo o almeno che qua ci sia tipo lo sapevo lo sapevo che non c'era niente lo sapevo ci prendiamo le torce vabbè anzi no per vedere ci siamo andati ora andiamo in un'altra se se le abbiamo esplosate su una grotta nascosta ecco questa mi piace che si scende lo sapevo ecco vabbè però il ferro il ferro è buono eh quanto non tanto però mi aspettavo di più lasciamo queste torce cosa c'è e ritorniamo in superficie prendiamo del cibo quanto mi hanno dato uno vabbè prendi fornace ce l'ho qualcosa il legno mi serve il legno andiamo andiamo a prend non correre però andiamo andiamo a prendere il legno ciò allora il legno si prende ecco perché ho messo qua prendi il legno qua questa serie è in minecraft playstation 3 basta quanto ne ho preso 2 4 ok al posto del piccone tanto non ci serve perché andiamo miniera non c'è un'altra miniera ok dopo ci andiamo raga sono ritornato e ho preso delle torce e ho preso ho cotto del cibo qua si scende così benissimo dove andare destra o sinistro di solito si va a destra e qua di solito si va a sinistro aspetta l'acqua ma no ecco vedi si va a sinistro ma quanti crotti ci sono percorso qua ora sapete che non c'è niente lo sapevo lo sapevo eh quante crotti c'erano qua vabbè un'altra ah quella con l'acqua cosa c'è lì un enderman ok andiamo ad uccidere vediamo se c'è tipo un enderman non guardare l'enderman ma c'è così enderman non guardiamolo vieni o no ah è vero dovete teletrasportare un'altra miniera e me ne frega dell'enderman però se va in cima ma non mi calma pure su questo ecco ora si comincia a ragionare non è più torce aia 8 torce 20 secondi e poi ho capito stop ora questo video è finito ciao a tutti